Secondo anno a Lazio per Maurizio Sarri Dopo un primo anno di adattamento al modulo ed etami del mister dove comunque i risultati sono arrivati quest'anno la Lazio è chiamata alla prova del 9 Ora vediamo insieme come gioca la squadra e quali sono i giocatori da puntare in chiave Fanta Calcio Classic, Mantra e Soler Obiettivo 75 like entro a mezzanotte ragazzi per un nuovo video in uscita già domani quindi spollicciamo più non posso iscrizione e campanella anche mi raccomando per rimanere sempre aggiornati e ora iniziamo Ciao sono Federico Viglino e questo è Profanta Calcio La prima Lazio targata a Maurizio Sarri ha chiuso la stagione al quinto posto forte del secondo miglior attacco e della decima miglior difesa a capo del club troviamo il presidente Lotito dal 2004 uomo d'affari con aziende in diversi settori l'allenatore è ovviamente Maurizio Sarri tecnico apprezzato per il possesso palla il bel gioco e per le esperienze a Empoli, Napoli, Chelsea e Juventus il mantra del tecnico è il 4-3-3 dove si cerca sempre la costruzione dal basso salvo rari casi in cui si lancia a lungo su Milinkovic-Savic il pallone viene giocato dai centrali verso gli esterni con cui si cerca un dialogo o verso la mezzala oppure direttamente verso l'ala un'ulteriore opportunità di gioco se non si trovano sbocchi è cercare un Milinkovic-Savic più avanzato praticamente sulla linea degli attaccanti soluzione già vista più volte nel gioco di Maurizio Sarri la finalizzazione avviene con la ricerca della profondità alle spalle dei centrocampisti e dei difensori avversari anche con l'inserimento delle mezzali come abbiamo detto mentre non si disdegna anche il contropiede rapido in fase difensiva Maurizio Sarri vuole una squadra compatta e con marcature uomo su uomo anche se lo scorso anno abbiamo assistito a diverse sbavature di troppo Lazio è intervenuta sul mercato soprattutto nel reparto difensivo abbiamo acquisti già ufficializzati di Maximiano, Romagnoli, Casale, Marcos Antonio e Cancellieri mentre sono partiti Stracoscia, Reina, Luis Felipe, Lucas Leiva e dovrebbero partire anche Acerbi e Isai sul mercato la squadra sta cercando un vice Maximiano vedremo se sarà un portiere abbastanza forte da giocarsi il posto o farà solo da vice poi si cerca anche un vice immobile e non è da escludere anche l'arrivo di un altro centrocampista e si sta parlando di Ilic o Vecino vediamo ora i giocatori interessanti e partiamo dal nuovo portiere da verificare la sua titolarità in quanto con l'arrivo ad esempio di un provvedello o di un altro portiere potrebbe giocarsi il posto tuttavia può essere un buon colpo low cost da fare ovviamente quando arrivi un altro portiere per evitare di rimanere fregati vi consiglio di prendere entrambi i giocatori ossia la coppia non esageriamo qua ragazzi con i crediti spesi anche perché la Lazio dietro ha un po' rivoluzionato tutto perciò va bene come colpo low cost ma senza fare follie e vediamo la nuova coppia di difensori centrali titolari ossia Romagnoli e Casale perché come sapete ragazzi acerbi dovrebbero partire si tratta di due giocatori che giocheranno per le prime volte insieme perciò è da verificare l'effettiva affidabilità dei due tra i due punterei Casale perché meno conosciuto meno tenete agli infortuni e perciò è probabile che si riesca a portare a casa a un buon prezzo comunque per entrambi li vedo come colpi low cost al prezzo di costo o poco più andiamo adesso a vedere i terzini, gli esterni e troviamo Lazzari e Marusic attenzione a Lazzari che ha chiuso la scorsa stagione in netto crescendo e potrebbe essere quindi un colpo low cost in quanto nell'ultimo anno le sue quotazioni si sono comunque abbassate parecchio a mio volo di vedere da preferire a Marusic in mediana troviamo Marcos Antonio, il nuovo arrivato e Cataldi i due si giocheranno il posto per il Fanta niente di esaltante lascerai perdere iniziamo ora Luiz Alberto e Milinkovic Savic i due centrocampisti per eccellenza in casa Lazio attenzione a Milinkovic Savic che ha ormai raggiunto la propria maturità abbiamo visto come in certe situazioni di gioco sia addirittura un attaccante aggiunto per Maurizio Sarri e questo ovviamente si traduce in un ottimo bottino di goal e di assist sarà una delle C più pagate al classic mentre è il C-T per eccellenza per quanto riguarda il mantra Luiz Alberto è listato solo T al mantra il che è un po' paradossale se confrontato con Milinkovic Savic visti gli schemi di gioco di cui abbiamo appena parlato è comunque una soluzione più low budget rispetto a Milinkovic Savic che può dare grandi soddisfazioni per quanto riguarda Milinkovic mi aspetto una decina di goal e all'incirca 7-8 assist per Luiz Alberto invece mi aspetto un bottino di 5 goal e 8-9 assist passiamo ora a un'altra coppia dei centrocampisti in casa Lazio niente niente male ossia Zaccagni e Felipe Anderson gli stati W-A al mantra sono due giocatori che possono portare a testa 5 o 6 goal durante tutta la stagione più altrettanti assist la davanti non saranno inamovibili ma sono comunque due ottimi centrocampisti li reputo due secondi slot da provare a fare vostri tra i due punterei Felipe Anderson se cercate più titolarità mentre punterei Zaccagni se cercate una maggiore costanza di rendimento in attacco troviamo un giovane delle belle speranze come cancellieri che eviterei se non come scommessa a 1 e poi troviamo il numero 1 del listone anche quest'anno ossia Ciro Immobile con lui si parte dai 20 goal in su è quello che dei bomber di tutte le squadre dà più sicurezze e attenzione perché quest'anno vista comunque la concorrenza dei vari Braovic e Lukaku si potrebbe portare a casa a qualcosa in meno rispetto alla scorsa stagione e mi raccomando seguitemi anche su Instagram perché nel post di anticipazioni della Lazio vi indico tra le altre cose anche il budget consigliato per fare vostro immobile all'asta passiamo ora ad analizzare la Lazio su Soler il nuovo fantacalcio play to earn che sta rivoluzionando l'intero settore infatti con Soler è possibile monetizzare la propria passione per calcio, fantacalcio, fifa e non solo se vuoi sapere meglio come funziona trovi qua sotto in descrizione il video tutorial completo le carte dei giocatori della Lazio sono già presenti nella versione 2019-20, 2021 e 2021-22 e anche grazie alla nuova partnership tra la Lega di Serie A e Soler una partnership esclusiva e pluriannale troveremo le nuove carte dei biancocelesti anche per la prossima stagione e partiamo da Max Miano il nuovo portiere della Lazio come vedete abbiamo delle medie niente niente male però prezzi decisamente alti sinceramente sia per la versione limited che per la rara guarderei altrove i centrali di difesa sono come sapete Romagnoli e Casale interessante il secondo per la giovane età e una maggiore resistenza agli infortuni per quanto riguarda i terzini biancocelesti troviamo sulle fasce due buone occasioni infatti abbiamo Marusic vedete medie niente niente male soprattutto per la soglia e vi ricordo ragazzi che la soglia la troviamo esclusivamente nella Lega All Star rara ed è un premio che è dato a prescindere dal posizionamento infatti basta fare 205 o 250 punti per ricevere in premio l'equivalente in ethereum di 25 dollari e 50 dollari e questo per ciascuna giornata ragazzi che sul store si svolge ogni tre giorni ma torniamo a Marusic vi dicevo ottimo giocatore anche per la soglia buone medie e vediamo prezzi decisamente contenuti per entrambe le versioni d'altra parte troviamo Manuel Lazzari e come vi dicevo ha chiuso la stagione in crescendo e questo ce lo dicono anche le medie infatti questa è la media delle ultime 5 partite qua delle ultime 15 e qua delle ultime 40 guardate come è andata in crescendo per quanto riguarda i prezzi troviamo anche qua due ottimi prezzi sia per quanto riguarda la versione limited che per la versione rara rara che come vi ho spiegato prima può tornare utile per le soglie anche in questo caso attenzione però perché il buon Manuel Lazzari è allestato centrocampista e staremo a vedere magari la nuova versione 2022-2023 ci regalerà invece un Lazzari difensore ancora alla Lazio troviamo anche a Cerbi guardate qua certezza per quanto riguarda le performance ma assoluta incertezza in questo momento per quanto riguarda il suo futuro guardando i prezzi ragazzi può essere una occasione se pensate che in qualche modo possa essere reintegrato difficile o più facile andare a fare il titolare in un'altra squadra di Serie A o comunque licenziata da Sorare come vi ho raccontato in questo video qui avevo deciso di fare mia una coppia rara di Cerbi per la mia squadra europea la nuova stagione e tra l'altro ragazzi comprato veramente a un prezzo molto molto basso se non il più basso dei tempi recenti ora però vista la situazione sto attendendo di sapere dove lo porterà il mercato per poi valutare la sua situazione se tenerlo o cederlo al centrocampo troviamo Cataldi una buona scommessa low cost mentre di low cost non ha assolutamente nulla Milinkovic Savic uno dei top centrocampisti del nostro campionato sia come performance che come prezzi e qua la sicurezza si paga ragazzi assolutamente poi troviamo Luiz Alberto assolutamente non inferiore a Milinkovic Savic per le medie guardate ragazzi qua niente niente male davvero anzi delle ottime medie da essere sfruttate in game anche grazie ai molti palloni toccati ma il tutto ha un prezzo decisamente più abbordabile sia per la versione limited che rara e per tutti questi motivi ho deciso ragazzi di farlo mio come centrocampista di punta per la mia squadra europea stagione 2022-23 sempre di stato centrocampista troviamo anche Zaccagni non male come qualità prezzo soprattutto la versione limited anche qui con Felipe Anderson abbiamo un'ottima qualità prezzo per un giocatore di serie A ragazzi e sappiamo signori come i giocatori di serie A non siano esattamente low cost ma hanno anche il vantaggio di conservare di più il prezzo e di avere perlomeno per noi italiani una maggiore facilità di reperire le informazioni vi segnalo che per quanto riguarda Felipe Anderson troveremo sia la versione centrocampista che attaccante niente male entrambe io le sto visionando tutte e due in particolar modo la versione attaccante passiamo ora al top dei top per quanto riguarda gli attaccanti della serie A ossia Ciro Immobile non solo il top al fantacalcio classic e mantra ma anche qui su Sorare vedete qua i punteggi infatti e ovviamente ragazzi i prezzi sono abbastanza altini perché appunto garantisce sicurezza di prestazioni e ovviamente stiamo parlando di giocatore molto importante reputo il prezzo limite del tutto sommato buono ovviamente sempre rapporto qualità prezzo mentre la versione rara secondo me è per quei manager che attraverso le competizioni rare vogliono andare a premio carta in maniera costante dopo averne venduto una copia per 0,82 Ethereum ne ho ricomprato un'altra copia del buon Ciro Immobile a 0,61 a maggio e come potete vedere adesso all'incirca la sua valutazione sta al doppio e sono convinto ragazzi che quest'anno questo giocatore mi regalerà veramente tante tante soddisfazioni e per finire un ultimo giocatore dall'ottima qualità prezzo ossia Pedro non più giovanissimo ma guardate qua comunque delle ottime performance stiamo parlando di un giocatore che sta nel titolare comunque subentra e può anche portare degli ottimi punteggi giocherà anche i turni infrasettimanali in coppa e questo lo rende ancora più appetibile soprattutto se rapportiamo la qualità al suo prezzo e ragazzi attenzione alla versione rara perché può tornare molto utile per la soglia anche in questo caso ragazzi non so se ci avete fatto caso ma il quarto giocatore laziale che ho in rosa ne posseggo una copia rara uso Pedro come vice immobile e mi sono ripromesso poi di venderlo quando il suo prezzo sarà molto più alto come avete visto ho deciso di puntare forte sulla Lazio qui su Soler perché garantisce uno dei parti offensivi più forti dell'intera Serie A e non vedo l'ora ragazzi che inizi il campionato per poterli finalmente schierare se vuoi saperne di più su come funziona Soler vi ricordo che qua sotto in descrizione troverai un sacco di link utili a iniziare dal link per iscriverti gratuitamente e ricevere così le prime carte per iniziare oltre a una carta limite di omaggio dopo le prime 5 aste dinte oltre a questo troverai qua sotto il video tutorial completo la playlist con tutti i video e anche il canale e il gruppo Telegram Soler Pro Fanta Calcio dove troverai un'altra guida completa questa volta scritta tanti strumenti utili e più di 1500 manager pronti a far bene in conclusione ragazzi ci troviamo di fronte a una squadra che ha cambiato molto dietro mentre davanti fa paura e non teme rivali avendo una delle fasi offensive più prolifiche d'Italia che sia Fanta Calcio Classic, Mantra o Soler abbiamo visto come all'interno della Lazio ci sono giocatori veramente importanti e che possono fare bene per questo il consiglio è di fare ai vostri almeno uno o due giocatori della Lazio soprattutto del reparto offensivo magari una punta o un'attaccante ecco io ve la butto lì obiettivo 75 like ragazzi per una nuova analisi già domani iscrizione e campanella mi raccomando e ora vi lascio al mio giocatore scommessa così come può essere un ottimo investimento low cost su Soler Pedro può regalare gioie anche al Fanta Calcio Classic e Mantra lo indico come mia scommessa personale perché a mio modo di vedere giocherà parecchio e può essere spesso e volentieri decisivo inoltre Starry stravede per lui e questa è una cosa da non sottovalutare per noi fan trenatori vale qualche credito in più rispetto al prezzo di costo e può benissimo fare il vostro quarto quinto slot per quanto riguarda il Fanta Calcio Classic mentre al Mantra può essere la A di riserva per i vostri titolari unico punto debole dichiarato è qualche infortunio di troppo da tenere in considerazione ragazzi per oggi è veramente tutto noi ci vediamo chissà già domani grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.